Nel Consiglio Comunale di ieri la maggioranza ha proposto alcune modifiche a regolamento sulla Tari. Oltre ad alcuni sgravi importanti e condivisi, rivolte alle categorie produttive e artigianali, la Giunta però ha inserito alcune norme molto discutibili e in parte assolutamente odiose. Lo afferma senza mezzi termini il consigliere d'opposizione Mauro Servalli di Imperia Bene Comune, riferendosi in particolare agli sgravi fiscali previsti per le seconde case e al trattamento riservato alle associazioni di volontariato. In precedenza esentate dal pagamento e ora costrette a pagare una bolletta anche se ridotte del 50%. Per Servalli si tratta di un trattamento vessatorio assolutamente ingiustificato. Sulla stessa scia anche il consigliere di minoranza Giuseppe Fossati di Imperia Riparte che denuncia come questi provvedimenti significhino più tasse per tutti e qualche vantaggio per i non residenti proprietari di seconde case. Fossati ha anche criticato il balletto dell'amministrazione relativo all'aumento del 4% della Tari, prima indicato come inevitabile, poi ritirato, poi ancora confermato e quindi di nuovo ritirato in consiglio comunale con l'annuncio di possibili aumenti in futuro. Per Fossati questa è la certificazione della fallimentare gestione della raccolta dei rifiuti a Imperia nei due anni di amministrazione Capaci.